Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 6 marzo. Ci stiamo avvicinando alla partita più importante di questi primi otto mesi della stagione 2022-2023. Stiamo parlando di Tottenham-Milan, dopo domani a Londra. La partita più importante perché è la partita che ci potrebbe portare ai quarti di finale. In questo momento, carissime amiche e carissimi amici, è inutile pensare alla Roma che ci ha raggiunto, alla Lazio che ci ha superato di un punto e all'Inter che ha davanti di tre punti. La lotta è feroce, la Roma ha battuto il Juventus ieri 1-0. La lotta è feroce per arrivare in Champions League. Una di queste squadre, lasciamo fuori la Juventus per adesso, poi vedremo com'è la situazione, restituzione o meno dei 15 punti. Intanto non ci sono. Non sono stati restituiti, quindi la Juventus per adesso non c'è. Quindi una squadra tra il Milan, l'Inter, la Lazio e la Roma rimarrà fuori. La lotta è feroce, ma dobbiamo dimenticare. Dobbiamo concentrarci su questa partita, su questo Tottenham-Milan. Difficilmente, così vi preparo già, molto difficilmente, il Milan potrà contare su uno dei grandi protagonisti della partita di andata. Brahim Diaz. Sarebbe già un miracolo averlo per la panchina. Titolare darei l'esclusione per la titolarità di Brahim Diaz. Cosa inventerà Stefano Pioni? La presenza di Krunic sembra abbastanza certa. Non so, magari in una difesa tre, in una squadra con il 3-4-3, il tre davanti potrebbe essere Krunic dietro le due punte strette, Leao e Giroud. Quindi tre. Il quattro in mezzo, Selemekerso Messias, Comenaser Tonali e Teo, e i tre dietro tendenzialmente dovrebbero essere i soliti Ciao, con a destra Calului e a Trattomori in porta Mignan. Questa dovrebbe, potrebbe essere la formazione. Senza Diaz non vedo altre soluzioni praticabili, anche perché non credo che Pioli voglia cambiare in questo momento il modulo che l'ha portato a giocare e vincere quattro delle ultime cinque partite. Purtroppo la partita contro la Fiorentina non ha visto un Milan brillante, non ha visto un Milan. Ma, ripeto, concentriamoci sulla partita contro il Tottenham. Il Milan arriva come arriva il Tottenham, cioè tutte e due sconfitti. Ho visto la parita del Tottenham, il Tottenham è stato sfortunato, ha avuto diverse occasioni, contro però un normalissimo Wolverhampton. Il Milan ha incontrato una grande Fiorentina che l'ha messo in difficoltà, meriti anche agli avversari. Ora, però, il titolo è Riflessioni su Pioli, perché leggo tante cose. Cominciamo a capire. Qualcuno, come sempre capita in questi casi, incomincia a avere dei dubbi su Pioli. Non dimentichiamo una cosa. Pioli sta lottando con una squadra che in questo momento presenta delle lacune, lacune magari non improvvise. Per esempio, l'Adamanti ha solo una certezza. Giroud, perché né Orighi né Rebic riescono a migliorare, riescono a portare un contributo valido in questo momento. Secondo me, alla fine, dovesse esserci un'alternativa a Giroud per il turnover, non per altro, mi auguro. In questo momento mi sembra il più affidabile Ibraimovic. Scegliete voi, se doveste scegliere, tra Rebic, Ibraimovic o Orighi. Poi uno magari sceglie uno, uno sceglie l'altro. Quindi già c'è questo problema importante per Stefano Pioli, perché le punte con un leao poi che non riesce a essere molto continuo. L'accusa è di mettere Baccaiocco. Mi sembra una goccia in un mare. Non mi sembra questo il grande problema. Non mi sembra che inserendo Vranks o Pobega ci sarebbe un salto di qualità. Ha a che fare con un decetelare che a qualcuno piace, a qualcuno non piace. Certamente non è un giocatore che sta incidendo in maniera decisiva. Adli non viene ancora messo e per fortuna ha trovato ciao. L'altro giorno contro la Fiorentina la difesa ha sofferto, sembrava la difesa di gennaio. Tanti spifferi, figli di un centrocampo che faceva molta fatica a limitare gli attacchi di una eccellente Fiorentina. Ma le riflessioni di Pioli vanno anche oltre. Ma che sia un allenatore fino a un certo punto e che manca del salto di qualità? Ecco, volevo solo dire una cosa su Pioli. Dopo il primo anno, alle prime due sconfitte hanno incominciato a dire che il secondo anno si sa il secondo anno di Pioli ed è arrivato il secondo. Poi a piccoli problemi, per fortuna piccoli, che abbiamo avuto il terzo anno che ci ha portato alla vittoria del campionato, subito essi ma Pioli ha i suoi limiti, primi. Adesso hanno detto, ecco, quando Pioli va nel loop, parliamo di gennaio, è finita, non riesce a uscirne e Pioli ha portato quattro vittorie consecutive e poi come Ancelotti, come Sacchi, un po' meno capello, come Ancelotti e come Sacchi, alla vigilia delle partite o dopo le partite di Champions League, la squadra, il Milan ha accusato problemi, prima o dopo. Mi dicono al Milan, attenzione, sarebbe insopportabile per noi pensare che sia causa del pensiero fisso sulla Champions League. Io, va bene, sarebbe grave, io dico che la storia del Milan, non mi interessa la storia delle altre, la storia del Milan ha visto anche i grandissimi Milan, parlo di Van Basten e Gullit, perdere a Cremona vicino alle partite di Champions o ad Ascoli. Quindi, anche se non si vuole sentire parlare così, anche se rifugiamo da questo pensiero, la storia ha detto che le partite vicino alla Champions League hanno portato dei problemi al Milan. Milan differenti come allenatori, differenti come storia, differenti come giocatori. E allora subito l'accusa Pioli, ma manca il salto di qualità. Adesso vediamo innanzitutto la parida contro il Tottenham. Certamente Pioli ha sempre detto voglio anch'io fare un salto, però subito queste accuse gratuite, anche perché Pioli conosce l'ambiente, chiaro che dicono che dopo un po' di anni, però Pioli non è qui da nove anni, è qui da tre anni e sta crescendo con la squadra. Non voglio difendere Pioli a tutti i costi, sto solo, il titolo è Riflessioni su Pioli. Riflessioni a voce alta che voi potete, diciamo, potete sicuramente condividere oppure controbattere, oppure non condividere, questo è il mio pensiero. Però siamo già abituati a decidere già che Pioli nel secondo anno va male, quando ci sono i problemi non riesce a uscirne e fino adesso Pioli, rosso-nero, ha sempre smentito. Quindi mi auguro che smentisca e che ci porti fra le prime otto d'Europa, non capitava da anni e anni, ed è un altro successivo passo sempre con Stefano Pioli. Quindi può darsi che non diventi l'allenatore più forte della storia del Milan, ma in questa fase del Milan, signori, sta giocando con giocatori di livello, con qualche campione, ma indubbiamente il Milan, soprattutto quando non tutti i suoi giocatori riescono ad ammalliare il fuoriclasse del Milan, cioè il gioco, chiaro che la squadra ha difficoltà perché, come dicevo, non ha un faro, il faro del Milan è il gioco, non ha un faro giocatore che possa in queste situazioni difficili uscire e far uscire alla squadra. Quindi non è che io voglia difendere Pioli, sto solo dicendo che attenzione a trarre giudizia, a stilare bilanci su Pioli, aspettiamo la fine della stagione o perlomeno aspettiamo la fine della partita col Tottenham. Il pericolo con la partita col Tottenham, non avendo Brian Diaz, ve lo dico già, mettendo Krunic è quello di costruire poco, di partire subito con un atteggiamento un pochino troppo rinunciatario, ma non essendoci Brian Diaz, che sarebbe stato sicuramente titolare. Che alternativa? Che alternativa mettere lì? De Ketelare contro il Tottenham? Non credo. Adli non c'è, Vranx non c'è, quindi la soluzione del giocatore creativo, non lo so, può darsi che possa magari tonali cercare qualche inserimento, però non è facile. Lì dovrà lavorare, la partita deve essere la partita di Leao e Giroud. È Leao che deve strappare, perché il Tottenham cercherà di schiacciarci e ci saranno degli spazi, manca Dier, che è uno dei punti di riferimento difensivi. Quindi il pericolo è quello, il Milan deve essere così bravo di adelante con Juizio, sì andare avanti con giudizio, ma comunque andare avanti, altrimenti si rischia la partita contro la Fiorentina, dove gli altri giocano e il giocatore che prende più palloni, il giocatore con il tocco maggiore di palloni diventa Mignan, sempre impensierito da questi passaggi indietro. Giocando così arrivano i gol, sicuro. Allora bisogna incominciare a cercare delle soluzioni offensive che possano creare dei pensieri al Tottenham. Però in questo momento a Pioli manca, ripeto, il giocatore che possa fare il Leao e deve essere il Leao che torni come protagonista, quello che riesca a catalizzare, che riesca a prendere i palloni, che riesca a dare pensieri alla difesa. Godiamoci Pioli, aspettiamo quei giudizi che poi portano fortuna solo a lui, a Pioli e al Milan, sempre giudizi tranchant e poi alla fine ha ragione sempre Pioli. Ormai siamo abituati a un Pioli già denigrato e siamo abituati a un Pioli che ci porta così in alto. Quindi, attenzione, allenamento di oggi, allenamento di oggi per capire ancora di più quali saranno le scelte di Stefano Pioli. Importante, una bella saldezza difensiva ma pronti a far male. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale di Calo Pelegatti e attivate la campanella.